Eccoci qui come state, un saluto a tutti ben ritrovati, un abbraccio da casa Milan, da casa Milanello, dai milanisti su YouTube, vi invito come sempre a commentare, a lasciare un bel like, da queste parti è gratuito, spero si possa arrivare a 3000 like, facciamo questa sfida e commentate da questa parte. Vi ricordo anche di iscrivervi qui, siamo quasi 100.000 perché siamo quasi 93.000, sono tanti, però insomma piano piano ci arriviamo, speriamo entro la fine dell'anno, sperando che il prossimo possa essere l'anno della seconda stella, sarà un illuso? No, siamo il Milan e quindi anche se un mercato fa fatica un po' a decollare, però ecco, quello deve essere il grande obiettivo della prossima stagione, la seconda stella che io sogno e che darei di tutto per andare a conquistare il prossimo anno. Se anche voi sognate la seconda stella, siete dei cuori rossoneri, amate il Milan, iscrivetevi da questa parte, ovviamente è gratuito, ci contiamo. Allora mi metto comodo perché ci sono tante notizie, innanzitutto, è il ginocchio questo, siamo tra amici come davanti alla macchinetta del caffè o al bar o in spiaggia, innanzitutto segnaliamo che c'è un sondaggio della Serenitana per Colombo, Serenitana che, nonostante il cambio di dirigenza, sta riallacciando i rapporti con il Milan, interessata da Dli, se resta era Paolo Sosa che ha fatto un po' indispettire la proprietà, ma si è interessata anche a Colombo con quindi questo possibile movimento Nasti che potrebbe andare a Lecce, Colombo che potrebbe fare un salto di qualità rispetto a Lecce, visto che la Serenitana ha un progetto un po' più ambizioso, oltre ad essere arrivato più in alto, non di tanto, ma più in alto rispetto a Lecce. E Colombo potrebbe essere valorizzato un altro anno, anche qui formula in cui è previsto comunque una sorta di premio di valorizzazione alla Serenitana. Si parla, siamo ancora ai primi contatti primordiali, però attenzione a questa pista, anche se non è stato escluso che Colombo possa diventare un sacrificio di mercato, una contropartida di mercato, cercheremo di capire insieme per chi e per che cosa e perché. Poi, prima di arrivare a un paio di nomi molto importanti, che mi fanno sorridere e rispetto ecco un po' al sali e scendi emozionali, all'ottimismo, alla delusione, in questo momento mi dà un po' più di sorriso, questi due nomi, ora ci arriviamo, segnaliamo che nelle ultime ore è stato accostato al Milan un nuovo centrocampista, del quale ho cercato di capire qualcosa in più. Il nome è quello di Tijani Reinders, chi è? Voi direte. Ha 24 anni, quasi 25 tra un mese, olandese, al turno 85, gioca nella ZH, Mark Hong Kong con il contratto di scadenza nel 2027, di mestiere fa il centrocampista. In redivise quest'anno 34 partite, 4 gole e 7 assist, giocatore che è fermo, l'under 20 olandese. Ha fatto anche la Conference, 12 partite, 1 gole e 2 assist, le qualificazioni alla Conference, 6 partite, 3 gole e 1 assist. Adesso vado a vedere anche le scorse stagioni, colpisce che ha saltato negli ultimi due anni soltanto una partita per infortunio. Poestano ha giocato il 100% dei minuti nelle divise, significa che non è mai neanche stato sostituito. Ha un'affidabilità estrema, gioca nei due di centrocampo. Il mio amico Steph, tecnico, grande conoscitore, che ogni tanto cito, mi dice che è un po' compassato, sembra quasi un centrocampista da altri tempi. Vediamo, lo scorso anno lui ha fratto 4 gole e 2 assist in redivise. Centrocampista che è stato accostato al Milan nelle ultime ore, valutazione non elevata, d'utilità, al tiro da fuori, è uno specialista del centrocampo a due, registriamo sinceramente, ecco, potrebbe essere il centrocampista di complemento. È chiaro che in questo momento anche tanti agenti hanno interesse a costare i loro assistiti al Milan per cercare di stimolare interesse. Vediamo se è un made in algoritmo, se avrà seguito oppure no. In questo momento il nome forte a centrocampo è Chukwemeca, ricordiamo che però è extracomunitario, quindi Milan non può fare tanti extracomunitari, può fare due al massimo e uno sarà Kamada. Poi piace Chukwemeca, che è extracomunitario, Nels, lo dicevamo anche nel video precedente. Tijani Reinders, mappa di calore, ve la faccio subito vedere, è un tuttocampista di corsa, lo vedete lì, corsa, sacrificio, buona tecnica, ripeto, mio amico Steph, che conosce tutti i giocatori, l'ha seguito in conference in un paio di partite, mi dice, come impressione, un po' compassato. Poi, proseguiamo in questo videomercato, alziamo però l'asticella, con due nomi molto importanti. Diciamo che a me piacciono incredibilmente entrambi, per questo questo sorriso nel parlarvene. Dovessero arrivare entrambi, sarebbe il top del top del top. Magari abbinato a Turama, appunto, che nel video precedente, vi dicevo, ha utilità anche per la questione mercato, perché ti permette di andare a spendere anche su altri. Ebbene, due nomi molto importanti, con un po' indiscrezione davvero molto, molto, molto succosa. Il nome non è nuovo, ma sta facendo parlare incredibilmente di sé nelle ultime ore. È quello di Arda Güler, giocatore che in tanti conoscete, in tanti state imparando a conoscere. Turco, 18 anni appena, ripeto, 18 anni appena. Alto 1,76. Scadenza con il Fenerbahce, 2025. Clauso, la recisora, da 17,5 milioni di euro, quindi sarebbe un prezzo assolutamente vantaggioso per un giocatore che diventerà un crack. Io ci metto la mano sul fuoco, perché non ha limiti caratteriali, a differenza magari di De Ketelare. E a 18 anni sta facendo già vedere cose impressionanti. Ieri un gol con il Galles, pazzesco. Un tiro a giro con il Mancino, infilarsi nel 7. Un gol bellissimo, un gioiellino che rientra nei più gol belli di Dybala. Ecco, un Mancino là, ma tra i gol più belli di Dybala, ecco, siamo di quel livello. Quest'anno lui, a 18 anni, aveva prima 17 anni, perché la stagione è iniziata agosto, ha fatto tra i 17 e i 18 anni 4 gol e 4 assist nel campionato turco. che è vero, è più facile, però, parliamo di 17enne, barra 18enne, che ha già un gol in 4 partite con il Lanzionale Turca. Anzi, forse il dato non è neanche aggiornato, ve lo dico subito. Ve lo dico subito se è aggiornato oppure no, perché altrimenti sono due gol in 5 partite. No, è aggiornato, è aggiornato. Lui ha fatto in 160 minuti un gol, anzi, sì, in 145 minuti un gol bellissimo ieri. Giocatore che è fortissimo, che ha tutto per diventare un giocatore di livelli più alti in Europa. Condivido molto il commento di uno di voi, che dopo il gol mi ha scritto Giocatore generazionale, nel lungo periodo è quel giocatore che ti cambia la storia del club. Sono assolutamente favorevole. E un giocatore che ti puoi portare a casa 17,5 nel giro di qualche anno può valere tranquillamente il quadruplo, nel giro anche di un paio d'anni. Che cosa succede? Innanzitutto diciamo che in questo momento lui è già da un paio d'anni, 2-3 anni, conosciuto dai top club. Ora però sta dando risposte davvero molto affermative. In questo momento su di lui c'è in vantaggio l'Ajax, che però non è il PSG o il Manchester City, quindi con l'Ajax è do che si possa competere. Ripeto, 17,5, clausole esercitabili ancora però per un periodo limitato. Quindi se lo vuole devi prendere in tempi abbastanza brevi. Giocatore che ha una media di 72 tocchi a partita, 89% passaggi riusciti, 63% tribuli riusciti, ha preso 4 gialli. Mappa, dicalo, ah no scusate ho letto una scheda diversa, perdonatemi. Perdonatemi subito, vado a recuperare invece la Super League di questo giocatore. che ha, eccolo qui, allora, 47 tocchi a partita, 85% passaggi riusciti, dribbling 53% e ha un giallo. Diciamo che per arrivare a lui sarebbe importante cedere De Chetelare, ma cedere De Chetelare eventualmente lo fai più avanti, ad agosto dopo l'Europeo che finirà, l'Under 21 che finirà intorno, se non sbaglio, l'8 agosto, l'8 luglio scusate, o comunque metà luglio, lo fai eventualmente poi. Però, ragionando in cima a voce alta, stiamo notando come Milan è su diversi extracomunitari. Come giocatori sulla destra, in questo momento, da Radiomercato e da quello che filtra è su Nelson, a meno che non rinnovi con l'Asena, che è extracomunitario. Kamada è extracomunitario, Ciuquezza è extracomunitario pure lui. Attenzione perché la narrazione diventa, può essere un nuovo trequartista. È vero, lui potrebbe fare perfettamente quel ruolo. Vi faccio vedere però una cosa. La mappa, la famosa mappa di calore. Guardate la mappa di calore. C'è un po' di riflesso, ora forse... Mamma mia. Non ho tempo di montare il video, se no avrei fatto vedere diversamente. Guardate. È un giocatore che gioca prevalentemente sulla destra. È uno da mattonella di destra, che rientra poi sul piede forte che è il mancino. Quindi potrebbe essere lui l'esterno di destra, con qualità incredibili. Sarebbe un colpo, ripeto, pazzesco. Per questo dico che è importante prendere a zero Turam, perché poi risorse per centrocampo e per l'esterno, per altre quarti. Potrebbe essere Kamada, Leao, Güler e Turam. Ragazzi, porteremo tanti gol. Secondo me uno sforzo andrebbe fatto. Il Milan c'è su questo giocatore da tempo, ha avuto contatti anche negli scorsi giorni con il suo entourage. Bisogna cercare di convincerlo. E secondo me, ripeto, uno sforzo va fatto, ha quella cifra maggior ragione, perché ti porta a casa. segnatevi il nome, questo diventa un crack, io ci metto la mano sul fuoco, sono pronto a scommettere con tutti voi. Visto il gol di ieri, ragazzi, questo è un predestinato incredibile, che ha un carattere forte, non ci sarebbe il rischio di chetelare. Ripeto, siccome sarebbe compatibile, perché puoi farlo giocare tranquillamente sulla destra. E questo è forte davvero. Poi, proseguiamo, in questo video che mi dà finalmente un po' di speranze, non illusioni, ma speranze, rimanendo sempre con i piedi per terra, nel video sfogo di ieri dicevo, ragazzi, in questo momento c'è una fase di mercato forse irripetibile per certi giocatori, cioè Milinkovic-Savic che è sul mercato, Frattesi che è sul mercato, Milinkovic che è fortissimo, Frattesi che è fortissimo. Io dico una cosa, chi si prende uno o l'altro, beato lui, beato il club. Oggi, nel video di questa mattina vi dicevamo, nelle prossime ore previsto un incontro con Beppe Riso, agente tra gli altri di Frattesi, per sondare il terreno, per prendere informazioni, Milinkovic le aveva già prese, per cercare di capire se c'è margine di manovra, se è vero che il giocatore ha detto sia l'Inter e vuole soltanto l'Inter, se si può discutere, per presentare anche un progetto che potrebbe portare anche magari a un cambio di modulo, giocare nei tre, ha detto che comunque Frattesi ha giocato anche nei due. Lui ha detto preferirei giocare nei tre. Arriva nel frattempo, è arrivata nel frattempo una conferma clamorosa, che definirei, almeno nelle intenzioni, una bomba clamorosa, del Corsera, della collega bravissima, oltre che amica, Monica Colombo, che scrive, il Milan, è pronto a entrare nella corsa per Frattesi, è pronto a muovere i passi ufficiali per Frattesi, laddove per passi ufficiali si intende, ovviamente, quello che dicevamo noi questa mattina, cioè, entourage, riso, con cui venerdì scorso c'è stata una cena, risulta una cena con Moncada, ma anche Sassuolo. Ragazzi, discuto molto anche con amici, nelle chat rossonere, lo dico, se va all'Inter, l'Inter fa un colpo pazzesco, se va alla Juve, la Juve fa un colpo pazzesco, e dico, però, abbiamo il dovere di provarci. Sembra, sembra, che questa cosa, a questo punto la pensi anche il club, che sia pronto a entrare in una corsa, che magari non porterà il giocatore, ma che secondo me è doverosa provare a compiere. Ragazzi, frattesi, Ben Nasser, Tonali, sarebbe il centrocampo più forte d'Italia, a occhi chiusi, a mani basse. Il fatto che arrivino conferme anche da Monica Colombo, mi fa sperare, non ben sperare che se lo si porti a casa, ma che noi ci proviamo. Quindi tenetevi forte, perché se portiamo a casa frattesi, ragazzi, impazzisco, come i tempi di Tonali, o anche di più. Ripeto, Italia, i giocatori veramente forti, in ordine cronologico, negli ultimi tempi, Barella, si capiva subito, Tonali, si capiva subito, frattesi, si capisce subito, il prossimo sarà Baldanzi. Frattesi si sposta in questa finestra di mercato. ci proviamo, proviamo a capire, sperando di non scontrarci verso un no, l'Uvole, l'Inter, sarà importante appunto questo incontro, però ecco, la notizia, forse clamorosa rispetto alle aspettative, è che il Milan, prova a inserirsi in questo, in questo capitolo di mercato, che chi vince, può essere assolutamente pazzo di gioia. Vediamo cosa succede, ecco, per questo ribadisco, è importante prendere Turama a zero, perché se prendi Turama a zero, hai risorse per, anche per il centrocampo. Ricordiamo, che il giocatore, in questo momento, è soprattutto nelle mire dell'Inter, nel mirino dell'Inter, ma, l'Inter deve cedere ai giocatori. Noi potremmo non avere questa necessità, di cedere ai giocatori, però è importante arrivare a Turama a zero, per questo dico, Turama accetta il Milan. Che ne pensate ovviamente, piedi per terra, però, quello che auspicavamo, cioè un tentativo, sembra potersi concretizzare. Conferma, molto autorevole, da parte della collega Monica Colombo, e del Corsera. Un abbraccio a tutti, mi raccomando, iscrivetevi con il vostro punto di vista, commentate qui, iscrivetevi da questa parte, per me a frattesi, è un sogno di questo calciomercato. Ragazzi, se arriva a frattesi, faccio le capriole, eh, in diretta. Un abbraccio, mi raccomando, vediamo, però almeno abbiamo un sussulto di speranza. Vi rimando a video precedenti in cui vi parlo anche di offerte arabe per un nostro giocatore, sperando che possa arrivare anche un altro giocatore. E non solo, mi ho parlato anche di altro. Un abbraccio.